Un nuovo sistema di proiezione digitale Full Dome per il planetario del Museo Civico di Rovereto, uno strumento innovativo che si aggiunge al planetario optomeccanico e che offrirà ai visitatori un'esperienza di scoperta spettacolare e coinvolgente. I tradizionali spettacoli sotto la cupola cambiano e diventano il cielo in una stanza 3.0 con esperienze sempre nuove. Presentiamo al pubblico una nuova tecnologia digitale Full Dome che consentirà di vedere lo spazio in una dimensione completamente diversa per portare i segreti del cosmo ad un pubblico molto più vasto. Si può senza dubbio dire che la tecnologia in questo caso aiuta la scienza e la divulgazione. Il nostro pubblico già numeroso, speriamo che con questo ulteriore investimento anche molto impegnativo, con questo ultimo investimento si possono ottenere fasce di pubblico sempre più ampie. Il planetario digitale professionale rappresenta un passo avanti significativo nella presentazione dell'astronomia, consentendo ai visitatori di esplorare il cosmo con un realismo senza precedenti per la struttura. Si tratta di una proiezione a tutta cupola con immagini ad altissima risoluzione. Uno strumento nuovo per il nostro planetario, che la città di Rovereto conosce già molto bene, ma con questa nuova aggiunta, ovvero un proiettore digitale che permette di immergersi nello spazio utilizzando tecnologie che ci fanno fare proiezioni a tutta cupola. Questo vuol dire che oltre ad essere, a trovarci sotto la volta stellata che molti già conoscono, potremo dalla Terra partire ed andare a fare dei viaggi tra i pianeti, gli oggetti celesti, le nebulose, le galassie per scoprire il nostro universo in modo sempre più speciale ed immersivo. Il nuovo planetario si ripropone come una struttura che permette di far conoscere il mondo dell'astronomia con nuove tecnologie, un nuovo slancio che riporta attenzione a una struttura che è unica nel territorio trentino e valorizza ancora di più anche accanto all'osservatorio astronomico tutte delle strutture che sono una potenzialità molto ampia sia di divulgazione e conoscenza ma anche poi di ricerca, quindi valorizzando questo settore, il settore dell'astronomia, come uno dei punti forti di Rovereto e del Museo Civico.